Educare alla legalità economica. La Guardia di Finanza incontra gli studenti delle scuole di Reggio Calabria per parlare di cultura della legalità economica nell'ambito della seconda edizione del progetto. È un'iniziativa che trae origine da un protocollo di intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finalizzata a promuovere nell'ambito dell'insegnamento cittadinanza e costituzione un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. Obiettivo di questo progetto è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Io penso che questi innanzitutto siano incontri fondamentali perché i ragazzi devono sapere che vi è uno Stato a fianco a loro che investe nel loro futuro e soprattutto crede in un cambiamento che ci sarà. E questo già dimostra come vi sia interesse effettivamente a carpire quelli che sono probabilmente gli insegnamenti fondamentali per cambiare. Anche i ragazzi vogliono che questo avvenga e spero che ci sarà collaborazione non solo dei giovani ma anche degli adulti. Il cambiamento sarà molto più rapido di quello che si possa immaginare. Inoltre il protocollo educazione alla legalità economica punta all'organizzazione a livello nazionale di incontri presso le scuole finalizzati a creare e diffondere il concetto di sicurezza economica e finanziaria, affermare il messaggio della convenienza della legalità economico-finanziaria e simulare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dalle fiamme gialle, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini nei quali tutela il bene fondamentale delle libertà economiche. È un progetto a cui crediamo tanto perché dobbiamo diffondere sempre di più questa concezione di legalità economica che è una concezione che deve essere intimamente connessa con l'esercizio di una cittadinanza attiva, responsabile da parte di ognuno di noi e quindi dobbiamo cominciare da questi giovani cittadini affinché portino avanti nel futuro sempre queste idee. Grazie